Ciao a tutti amici, sono Erika e benvenuti in questo nuovo video su Nital Ghost 2 Cat versione Golden Retriever. Dunque, volevo annunciarvi che questo è l'ultimo video di Nintendogs di questa versione della Golden, perché finalmente mi hanno regalato la nuova versione, ovvero la Barbocino Nano. Dunque, domani è il mio compleanno, ma dato che purtroppo da domani fino al 20, dal 15 fino al 20, non sarò a casa, in pratica sarò a Roma, purtroppo, per una settimana appunto, dal 15 al 20. E quindi abbiamo dovuto festeggiare oggi il mio compleanno, il 14 invece che il 15. Infatti ho ricevuto i regali prima, i primi due regali che mi hanno dati i miei genitori. Ovvero, il primo è la Barbocino Nano, del Nintendo Spuket, e l'altro sono due vassoi, due vassoi per poter mettere dentro, anzi sopra, che sono due tavolini di legno fatti con il bambù, e li utilizzerò per fare il sushi, per metterci dentro il sushi ce la posso fare. E quindi mi hanno regalato queste due cose, sono troppo contenta, finalmente ho i primi due tavolini dove posso appoggiarci il sushi, sono contentissima. E volevo dirvi anche che questo che sto facendo adesso lo carico ora, appena terminato di farlo. E l'altro lo farò, lo caricherò domani perché farò due video di fila, ho deciso di fare due video. Così vi farò anche la boxing, forse, della Barbocino Nano, non lo so, forse no, vedrò. Comunque, in teoria questo video è il secondo, perché ne avevo fatto già uno prima stamattina, ma purtroppo dove facevo vedere gli oggetti che avevo dieci di pollo, dieci di pollo essiccato, ecco. Io adesso è cinquantanove di erba gatta, ma dato che... E quindi ho deciso di riprendere il video. E quindi adesso riprenderò, ne vedremo un altro pollo essiccato al gatto, un'altra erba gatta e il tonno essiccato sempre al gatto. Ah sì, scusate, vi faccio vedere anche i contapassi che ho fatto in queste ultime due o tre settimane di gioco e di assenze. E sono veramente veramente tanti, come vedete. E nelle vacanze di Natale ho fatto questi contapassi e sono davvero contenta. Non ho ricevuto ancora tanti oggetti, però... Quelli tipo il colare di cuoio verde. Però non importa, sono contenta lo stesso, del risultato di questo gioco. Ovviamente non lo abbandonerò, per carità, magari ci giocherò tutte le settimane, forse o meno. Una volta al mese, però ho deciso di farlo lo stesso. Di portare almeno video di questa versione. Ma porterò più spesso la barbecino nano. Dunque, chiamiamo Asia. Quindi ricapitoliamo per l'ultima volta. Da domani, dal 15 al 20, non ci sarò. 20-21, più o meno. Dai gatta! Oh, bene! Ok, si decida di venire finalmente. Lo spazzoliamo un po'. E nell'altra versione, credo, se avrò voglia, prenderò invece di un gatto, prenderò il robocucciolo. Dato che avevo detto che prendevo al passare del gatto il robocucciolo, in questa versione forse la prenderò nell'altra. No, dato che c'è il cane maledizione lì, preferisco dargli prima il tonno essiccato. Dai, forza! Vediamo. Ma sicuramente che lo mangia, ecco, infatti. Vediamo il pollo. E questo se lo divora. Carina! Carina! Oggi ci è meritata due polli ficcati. Questa cazzina. Ecco qua. Salviamo. E poi vi faccio vedere i punti che ho accumulato in queste ultime settimane. E voilà! Quelli sono i miei punti e io ho fatto 12 incontri in questo gioco. In questi due anni, se non sbaglio, almeno due anni sono... Gli ho giocati. L'ho giocato questo gioco. Almeno due di sicuro. Non so se tre. Uh, scusatemi, ho messo la telecamera. Mi spiace. Va bene. Ehm... Niente. Non c'è altro da farvi vedere, purtroppo. E quindi... Ehm... Io direi di salutarci qui. Votate, commentate, iscrivetevi al mio... Canale. E se vi è piaciuto, lasciate un bel like per supportarmi. E se avete voglia, cercate di mettere 10 like. Per aiutarmi a crescere. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.